Va ora in onda il film La Passione di Cristo, che sarà preceduto da una breve presentazione di Vittorio Messori, editorialista del Corriere della Sera. Informiamo i telespettatori che per il forte impatto emotivo di alcune scene, la visione del film è consigliata ad un pubblico adulto. È l'ultima appassionante sfida dei raccomandati. Lunedì di piastetta vi aspetto tutti, sintonizzati su Rai 1 per una grandissima finale. Talento, impegno e soprattutto grande divertimento. Balla di bene, a vista 5. Per decidere chi tra i finalisti sarà il vincitore di quest'anno. Tu vai al supermercato così? Sì, vado. Non ti hanno mai scambiato per il carrello? È una grande verità. I raccomandati, la finale, lunedì alle 21 su Rai 1. La sfida continua. Don Pietro, Don Gino, apri la porta! Un rifugio sicuro per i perseguitati. Questi come escono, li arrestano. Ma va! Capo Gino! Mi hai fatto spaventare. Una solidarietà senza distinzioni. I tedeschi sono entrati al ghetto come diavolo. Non siamo tutti pazzisti. La vita di mio padre è nelle mie mani. Dobbiamo restare qua, tutti insieme, uniti. È la casa di Don Pietro. Credi davvero che gente come noi possa avere un futuro? La buona battaglia. Don Pietro Pappagallo. 23 e 24 aprile, su Rai 1. Ha lasciato la chiesa al suo grande amico. aveva sempre grande stima per la sua personalità. L'ultimo imperatore del Novecento e un successore chiamato a proseguirne l'opera. L'eccezionale testimonianza del neocardinale Monsignor Stanislao Givis, per 39 anni segretario di Papa Vojtiva, che racconta due pontificati, quello di Giovanni Paolo II e quello di Benedetto XVI. Un ritratto straordinario di due grandi uomini che hanno segnato e segneranno la storia della chiesa. Lui lo ha, diciamo, dal cielo scelto. I miei due papi. A speciale TG1, tra poco, dopo il telegiornale. Carissimo Montalbano, felicitazioni, ha messo a segno un bel colpo, sa? Ma lo so. Ancora? Un'altra? Sì. Come te la caverai stavolta? Lei è molto intelligente, commissario. Commissario. Ma chi? È andato morto. Mi dispiace. Quel cane di terracotta mi diceva che doveva andare avanti. Indaga, Montalbano. Indaga. Il commissario Montalbano. Il cane di terracotta. Martedì alle 21. Rai 1. Allora, è pronto? Io c'ho fame. Giovanni! Rimarchiamo acqua. Diretti mo'. C'è un buco, una falla, non so. Passami qualcosa! Prendiamo ora qualcosa! Tieni! È difficile dare aiuto se non sai chi aiuto dare. Fratelli dell'Uomo conosce i bisogni dei paesi più poveri perché opera con le organizzazioni locali da anni. Sostieni le idee e i progetti di Fratelli dell'Uomo. Vambí! Vambi! S薄i che分i tipologica.